Questa mattina sto venendo al lavoro, andando verso il comune, ho una segnalazione da parte alcuni miei cittadini, mi trovo presso la chiesa di Mila Grande di Manbaroccia, la chiesa di Santa Giovanna dove sono cresciuto, qui trovate dietro di me la pista di patinaggio e queste sono le scritte che troviamo sul muro della nostra chiesa. La valorizzazione del nostro patrimonio ha questo rispetto da parte di qualcuno, qualcuno che adesso cercheremo di intercettare per far sì che non solo sistemi tutto ma non lo faccia più, perché questa è maleducazione in un patrimonio artistico e culturale del nostro territorio che non ci possiamo permettere. Quindi chi ha segnalazioni da darmi nel merito prego tutti di indicarmene, il sindaco è a disposizione, il resto lo faremo con quella che è la nostra polizia locale, scritte del genere che inneggiano a qualcosa che oggi non si può accettare per di più su un muro della nostra chiesa, scusate ma mi ha rovinato la giornata, approfondiremo quello che dovremo approfondire con le forze dell'ordine.